Ma che sta succedendo in questa finale di Coppa Italia? Inter 4, Juventus 2, cosa ha fatto Ivan Perisic? Cos'è? Cosa ha fatto quest'uomo? Guardate, vi allo Porca puttana raga Boom sotto l'incrocio Che cos'è? Che gol si è inventato il numero 14 Incredibile Guardate la felicità di questi giocatori Del mister Ma cos'era? Un siluro Perin qua Dice ma porca di quella Incredibile Qua c'è Bernardeschi Aspetta, non hanno cambiato l'inquadratura Non c'è più Berna Però lui non gli frega un cazzo Perde o vince Lui rischia sempre la giocata Ok raga Comunque è incredibile Cos'è successo? Attenzione Rosso Per Allegri? Che è successo? Rosso per Massimiliano Allegri? Rosso per Allegri? Sta succedendo di tutto Si stanno uccidendo Si stanno Una rissa da barro Contro l'arbitro Oh raga che cazzo sta fallegri? Qua Lautaro dice pure Ma vaffan... Vabbè Comunque si riporta con la partita Non si sa cosa è successo Mini rissa diciamo Vabbè Comunque si continua Con il pallone Vabbè Basta la telecronica Mo la faccio io Il pallone gestito Dalla Juventus Con Pellegrini Anzi no scusate Locatelli che torna indietro Da Bonucci Bonucci Avanza con il pallone Poi largo da Chi cazzo è? Delict Quadrato Attenzione quadrato Il pallone per Ken Ripende il pallone l'Inter Parte Vidal Alexis Sanchez 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 Ripende il pallone la Juventus Attenzione Quadrato Quadrato Intervento Attenzione fallo Oh raga Da quando è uscito di Bala Non si è capito più niente Comunque c'è Perin In questa partita Ha preso tre gol sotto l'incrocio Prima i due rigori E poi il gol di Perisic Incredibile Adesso si ripartirà Con un calcio di punizione Per la Juventus Attenzione Il pallone messo Dentro l'area di rigore Che arriva a Pellegrini Pellegrini Pallone deviato in angolo E dalla bandierina Va proprio il numero 17 Della Juventus Pellegrini Sta per partire Il pallone in mezzo Attenzione Il colpo di testa Che allontana di Vidal Adesso riprende il pallone La Juve Pellegrini Pellegrini Si gira Attenzione Bellissima azione del 17 Palla dentro Morata Murato Poi attenzione Bernardeschi Ancora Morata Morata Pallone per Can Pallone per Can Ancora Juventus Attenzione Vlaovic Vlaovic messo a terra Lascia continuare l'arbitro De Ligt fuori Vediamo che cosa dice Vediamo che cosa dice l'arbitro Attenzione Che succede Sull'intervento Su Vlaovic Che Che forse È lui Che tira il Pestone a Brozovic Però Brozovic Cioè scusate Volevo dire De Frey Ma De Frey Non fa nessuna espressione Più Vlaovic Che rimane a terra E poi Lascia continuare l'azione Tanto Bernardeschi Vabbè Mi è frico un cazzo Attenzione La decisione dell'arbitro Che si continua Si continua Con il pallone Ripreso Dall'Inter Pallone ancora In fallo laterale Questa volta Per la Juventus E finisce qui Il primo tempo Supplementare L'Inter Avanti di due gol La Juventus Sotto Per la prima Cioè questa è la prima volta Che vedo una finale Di Coppa Italia Con la Juventus Sotto di due gol Anzi no In realtà È la seconda volta Perché la prima volta È stata contro Il Contro il Napoli Che il Napoli Vince 2 a 0 In Coppa Italia Comunque è bellissimo Lo stadio Olimpico di Roma Che bello raga È forse uno Dei stadio Più belli Che abbia mai visto Perché mamma mia Guardate qua È troppo bello Cazzo È bellissimo Tanto vediamo I giocatori Che Fanno un discorso Tra di loro E poi Ritornano in campo Penso perché Penso che la pausa Dei tempi supplementari Sia di almeno Un minuto Penso Qua intanto Andanovic Il capitano della squadra Che fa il discorso A tutta la sua squadra C'è pure il mister Ad ascoltare Qui invece I bianconeri Che sono un po' Annigliti Ecco diciamo Ma che cazzo fa quello Si beve la birra Che cazzo Ragazzi Secondo me c'è Bastoni Che sta pensando Oh ma l'ho spento Il gas a casa Cazzo no Ebbene Si riparte Con il primo pallone Del secondo tempo Supplementare Gestito dalla Juve Ma quanto pare Subito Ricoperto Dall'Inter Invece no Ancora Juve Morata Colpo di testa Che non riesce ad andare Per Vlaovic Pallone che si impenna Sanchez Correa Attenzione Partito Sanchez Lo vedo Correa Sanchez Alexis Sanchez Ancora lui Sterza su Pellegrini Poi torna indietro Ancora da Correa Riprende il pallone La Juventus Con Bonucci Che va a terra Lascia continuare L'arbitro Vidal Brozovic Danfris Torna indietro Da Di Marco De Vrij Skriniar Pallone per De Vrij Scusate Avevo scambiato Skriniar Per De Vrij Andanovic Pallone rilanciato Verso Perisic Lo stacco di testa Che arriva All'autaro Anzi no Scusate Correa De Vrij Torni indietro Di Marco Pallone per Andanovic C'è Pressione Sul portiere Dell'Inter Pallone ancora Per Di Marco Cevi dà La fianco a lui Eccolo Il pallone Per lui Palla dietro Andanovic San Mirandano Che fa spazio Si incazza pure Il lancio lungo Attenzione Bro Pallone per La Juventus Rabiot Pallone dietro Per Bonucci Ancora Bonucci Lo scambio con Arthur Bonucci Il pallone per Delict Avanza La Juve Quadrato Quadrato Palla dietro Pallone per Bonucci Ancora per Delict Avanza con Il pallone Delict Torna ancora Una volta Da Bonucci Ancora Delict Scambio tra I difensori Centrali Della Juve Poi il quadrato Il pallone per Vlaovic Che aggancia Il pallone Vlaovic Poi viene attaccato Da giocatori Dell'Inter Che riprendono Il pallone Correa Correa Il pallone per Perisic Che finisce a terra Attenzione Attenzione Riprende il pallone La Juventus A metà campo Con Arthur Vlaovic Finisce a terra Punizione Da 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 posizione Molto interessante Per la Juventus Qui potrebbe Anche andare Al tiro Il giocatore Bianconero Che Sarà Vlaovic Come sempre Questa è la distanza Questo è Vlaovic Questo è Andanovic Anzi Sulla battuta Andrà a Pellegrini Che probabilmente La metterà in mezzo Potrebbe anche Tirare da quella distanza Ecco il pallone Che va Direttamente Sul fondo Forse ha provato La giocata Più di Bernard Visc In questo caso Vabbè ragazzi Mi sa che Questo mini video Della finale Finisce qui Perché Vi voglio vedere Gli ultimi minuti Della partita E vabbè Poi Farò un video Domani Vabbè Bella raga Iscrivetevi Lasciate like Condividete Bella Ciao